Andiamo a vedere il campo dei partenti. Tutti su una fila, contatto con l'ala, leggermente discosto New Hope al momento, che però con il favore della curva raggiungerà probabilmente il contatto con l'ala. Intanto si ritrae Pratt-Holtz quando mancano 100 metri allo stacco, la macchina che accelera. Dall'esterno emerge il numero 7 di Ruben Senne che cerca di scendere alla corda nei confronti di Radiosa Sergio, impresa che si concretizza prima dell'arrivo della piegata. Radiosa a seconda, poi New Hope alla corda, quindi Resora LB per linee esterne, seguita in seconda pariglia da Red Fire Thor. Si conclude così la curva e si arriva a completare il primo quarto di gara che Ruben Senne percorre in un comodo 30, sempre nei confronti di Radiosa Sergio, viaggia abbastanza tranquilla per linee esterne, Resora LB. Quando siamo al completamento dei 600 metri che vanno via in 45 e mezzo, con sempre Ruben Senne al comando. Posizioni che per ora non mutano, Ruben Senne radiosa, poi New Hope alla corda, mentre per linee esterne navigano sempre Resora LB, con ancora in schiena il Red Fire Thor. Uno e due scarsi per il passaggio a metà gara e chilometro che va via in uno 16 e mezzo. Si arriva così agli ultimi 500 di corsa, accelera il leader che cerca ora di mettere in difficoltà la risalita degli avversari, ci prova in terza corsia, Paul De Leon all'è, quando mancano 400 alla chiusura, con sempre Ruben Senne al comando, Radiosa che ne mantiene la schiena, Paul De Leon che viaggia per linee esterne, New Hope che cerca di avvantaggiarsi della corda. Ultimi metri di corsa, l'attacco di Radiosa Sergio che va ad insidiare Ruben Senne che è richiesto dal proprio interprete, Radiosa guadagna su Ruben Senne e cerca di sopravanzarlo. Ultimi metri, Ruben Senne ancora in vantaggio, nel finale Ruben Senne che si mantiene con un collo abbondante di vantaggio nei confronti di Radiosa Sergio, mentre per il terzo c'è ancora Paul De Leon all'è. Uno 58,6 per i 1600 metri del leader Ruben Senne, Enrico Conti alla guida per il training di Glauco Cicognani. E misura che è dell'ordine del 13,9 al chilometro, 7 al primo, 3 al secondo, 2 al terzo, l'ordine di arrivo di questa quinta corsa all'ippodono e capanelle. Grazie. 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 Grazie.